Effettivamente è un Consiglio Comunale molto molto infuocato, nel quale la mozione non è passata, ma il significato politico del Consiglio Comunale, con una mozione che va 6 a 6 a pareggio, è sindomatico di grosse difficoltà in cui verse in questo momento la maggioranza. In effetti i gruppi di opposizione avevano già visto che scricchiolava da tutte le parti questa maggioranza e che i problemi che loro hanno avuti si sono poi conclusi con due consiglieri della loro maggioranza che sono passati nelle file dell'opposizione. Un gruppo adesso di opposizione molto molto compatto che cercherà di dare risposte alla cittadinanza perché è un Consiglio spaccato in due ma è anche una cittadinanza spaccata in due. Dove si arriverà un comune ingessato, un immobilismo totale, si svolge solo l'ordinaria amministrazione, il sindaco secondo noi lasciato anche solo dai suoi assessori, quando durerà tutto questo? È la nostra domanda, la domanda che ci facciamo tutti i giorni noi gruppi dell'opposizione. Cosa sarebbe auspicabile secondo voi in questo momento così difficile? Quali decisioni dovrebbero essere prese? È molto difficile arrivati a questo punto trovare delle soluzioni. Diciamo che con serietà abbiamo fatto delle richieste al sindaco. Una delle richieste è quella di azzerare la sua giunta. Si parla, è di moda oggi, parlare di governi di salute pubblica. E beh, forse San D'Arsenio ha bisogno di un governo di salute pubblica. Lo so che per il nostro sindaco non è una decisione molto semplice, ma noi la mano l'abbiamo tesa. L'abbiamo tesa in questo senso. A nessuno piace che nel proprio comune venga nominato un commissario, perché avrei potuto benissimo rispondere a questa domanda dicendo sindaco dimettiti. È quello che avrebbe fatto qualsiasi consigliere di opposizione. Ma noi siamo persone molto consapevoli di quello che può succedere con un commissariamento, con un totale ingessamento di un'amministrazione. E allora quello che noi auspichiamo è quello di creare un governo di salute pubblica. Ma il sindaco deve azzerare la giunta. D'altro canto è noto a tutti che lo hanno fatto in comuni molto più grossi e importanti dei nostri. Da qui potrebbe poi nascere qualche cosa. Segnali da parte del sindaco in questo momento non ce ne sono. E la condivisione dell'elezione del Presidente del Consiglio poteva essere un segnale che invece non c'è stato.